Comandante, per il circomare il periodo estivo è sempre particolarmente intenso per il lavoro. Voi anche quest'anno avete iniziato una campagna che vi vede impegnati per la sicurezza non solo della nautica e della pesca, ma anche dei tanti bagnanti che frequentano le nostre coste. Sì, assolutamente sì. Anche quest'anno l'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Sciac, ovviamente in aderenza alle direttive del Comando Generale delle Capitanerie di Porto a Roma, ha iniziato l'attività Mare Sicuro 2022, un'attività che dura ormai da più di 30 anni e che vede tutte le autorità marittime e guardie costiere impegnate ad accompagnare, come diceva lei, i diportisti subacquei e bagnanti nella corretta fruizione della risorsa mare. C'è qualche consiglio in particolare che si può dare anche sulla base delle trasgressioni più frequenti che voi avete verificato? I consigli sono sempre gli stessi sostanzialmente. Ci vuole consapevolezza e coscienza, sia quando si va a mare, propriamente sulla spiaggia, ma soprattutto quando si va in barca. Le statistiche parlano chiaro, la maggior parte delle problematiche che vengono riscontrate ogni anno riguardano sostanzialmente cattivi accorgimenti preventivi, parliamo in questo caso dei diportisti che magari non controllano le dotazioni di bordo, faccio un esempio, può essere il regolare funzionamento della batteria, ma anche di aver fatto la giusta quantità, di aver imbarcato la giusta quantità di combustibile o peggio ancora di non verificare le condizioni meteomarine che in alcuni periodi possono anche subire dei cambiamenti repentini. Questo può comportare notevoli difficoltà. C'è anche chi non rispetta, e penso ad esempio gli acquascooter, la fascia proprio oltre la quale debbono sempre mantenersi per non mettere in peicolo anche i bagnani? Sì, l'ordinanza di sicurezza del circondario marittimo di Sciacca prevede una fascia di 250 metri dalle coste se sono pianeggianti o 150 metri se sono a picco sul mare, che sono sempre e comunque riservate alla bagnazione, quindi ai cittadini che vogliono tranquillamente fare il bagno. Chiaramente in questa fascia non è consentito navigare a motore. Per quanto riguarda le acquascooter ricordiamo sempre che la normativa è un attimino ancora più restrittiva, nel senso che gli acquascooter devono navigare oltre i 500 metri dalla costa e chiaramente entro un miglio dalla costa. Le principali sanzioni che anche quest'anno abbiamo rilevato riguardano effettivamente questo, non soltanto gli acquascooter, ovvero il mancato rispetto da parte di unità motore del limite di navigare oltre i 250 metri dalla costa. Questo si glielo confermo, abbiamo combinato circa 12 sanzioni già quest'anno.